Leonardo Silva Revisoree Per voi, cos'è il genio? Per me, il genio è colla. Abbiamo tanto sentito parlare di genio, e ognuno ha sicuramente una visione un po' diversa. Per me il genio è sempre stato quella capacità di creare, di generare qualcosa di nuovo attraverso l'impiego di idee e concetti spesso contrastanti. Un po' come una colla, che mette insieme pezzi diversi tra loro. Ma voi, come vi immaginate un genio? Qualcuno probabilmente starà pensando ad una lampada da sfregare, a qualche desiderio da esprimere ed esaudire in modo molto facile e molto semplice. Qualcuno starà pensando a personaggi del calibro di Leonardo da Vinci, Albert Einstein, magari Mozart. Chi potrebbe negare che si tratta di geni assoluti? Della massima espressione del genio dell'uomo? Nessuno. Non è sicuramente mia intenzione farlo stasera. Allo stesso modo, però, vorrei chiedervi chi potrebbe negare che tra chi mi ascolta, tra i qui presenti, si possa nascondere un pianista bravo almeno quanto Mozart? Credo nessuno. La ragione, in realtà, è molto semplice. Spesso nella nostra vita non ci abbiamo nemmeno provato. E quel genio è lì, dentro di voi, ancora inespresso. È un po' come una moto, che è rimasta ferma sulla griglia di partenza. Chissà quante volte nella vostra vita vi sarete imbattuti nello scetticismo generale davanti ad una vostra idea ritenuta pazza, folle. Chissà quante volte vi sarete detti forse sto correndo troppo, forse è meglio che rimanga con i piedi per terra. Chissà quante volte avete rinunciato a provarci solo per paura di fallire. Secondo voi, se Leonardo da Vinci si fosse limitato soltanto a ciò che è ritenuto normale, sensato, sarebbe quel genio che tutti noi oggi conosciamo? Credo proprio di no. Leonardo è andato oltre le convenzioni, si è liberato da ogni vincolo e da ogni catena. Leonardo ha ridefinito le possibilità dell'essere umano, a tal punto da immaginare che l'uomo potesse volare. Questo è il primo passo per far emergere quel genio che è dentro di voi. Questo è il primo ingrediente di una formula magica che proverò a svelarvi. Anche io nella mia vita mi sono spesso sentito dire che stavo correndo troppo, che dovevo rimanere con i piedi incollati a terra. In fondo è sempre stato così. Io sono un ingegnere. La mia parte razionale è sempre stata lì, presente, pronta a tirare il freno a mano. Un giorno però scoprì che al Politecnico di Torino un gruppo di giovani studenti stava lavorando alla progettazione di una moto per partecipare ad una gara tra università. In quel momento qualcosa accadde dentro di me. Tutti i ricordi, tutti i sogni che avevo sin da bambino riaffiorarono chiari nella mia mente. Le due ruote avevano sempre fatto parte della mia vita. Avevano esercitato su di me un fascino particolare, a tal punto che ad undici anni pensai di potermi iscrivere ad un campionato e poter correre. Ovviamente, fui preso per folle. Era inevitabile. Era assolutamente impensabile per chi proviene da un luogo, da un ambiente in cui la cultura del motorsport non è mai stata presente. Però, quando vi trovate nel luogo giusto, nel posto giusto, nemmeno la vostra parte razionale potrà frenarvi. Una spinta da dentro vi porterà a liberarvi da ogni vincolo, da ogni catena. È in quel momento che una corsa veloce avrà inizio. La corsa verso la realizzazione dei vostri sogni. Per me si trattava di rendere le moto parte integrante della mia vita e realizzare qualcosa di unico, magari geniale. Beh, per essere geniali però bisogna assolutamente pensare fuori dagli schemi. e questa, come avrete capito, è il secondo ingrediente fondamentale di questa ricetta. Vi starete chiedendo di cosa si tratta. Forse i più attenti, appassionati, avranno capito che si tratta del telaio di una moto. Per qualcuno sarà solo un pezzo di ferro. Per me è il cuore pulsante di questa avventura. È il primo traguardo di questa corsa. Stavolta però sono anch'io d'accordo con gli scettici. È assolutamente folle pensare, ma ancor più decidere di realizzare una moto, la cui struttura è tenuta insieme solo ed esclusivamente da una colla. È un po' come quando a casa rimettete insieme i pezzi di un oggetto che avete rotto. Vi chiedo, ma voi ci salireste mai su una moto incollata? Ridete. La risposta è scontata. Ovviamente è una colla un po' particolare. Permette di mettere insieme pezzi e materiali molto diversi tra loro. Come potete vedere anche dalla foto, all'interno delle nostre strutture è utilizzato un materiale che è la schiuma d'alluminio. Ha il peso specifico pari ad un quinto dell'acqua. Vuol dire che galleggia. Questo... Scusate. Mi emoziono. Mi emoziono a raccontarlo. Il processo in realtà di realizzazione è molto semplice. Spalmate la colla sui vostri pezzi. Li mettete insieme come se fosse un puzzle. E poi tutto in forno, come una torta. Cottura a 180 gradi e la dolce follia è servita. Sì, è così. Questa follia però sopporta carichi pari a 500 kg. Più o meno il peso di quattro pianoforti a coda. Raggiunge velocità di 250 km orari. E accelera più velocemente di tutti i mezzi con cui siamo venuti qui stasera. È quest'idea folle che rende la nostra moto unica. L'unica moto al mondo con un telaio di un forcellone completamente incollati. Sicuramente sfida le convenzioni. Invita lo scetticismo. Ma allo stesso tempo stimola la curiosità. Questo però non poteva rimanere tutto confinato soltanto ad un po' di colla e da qualche riconoscimento in ambito universitario. Mancava ancora un ingrediente a quella formula per la genialità. Quella spinta che realmente trasforma un'idea fuori dal comune in qualcosa di più. Ogni percorso verso il successo è costellato di mille ostacoli. Di mille difficoltà. Ma sono la perseveranza e l'attitudine con cui voi reagite al fallimento a caratterizzare il genio. Quasi dieci anni fa questo progetto era vicino alla sua fine. Per me però quel genio aveva ancora bisogno di esprimersi. Vedevo il mio sogno chiaro davanti a me. Se potevo immaginarlo, perché non avrei potuto realizzarlo? Se voi potete immaginarlo, chi o cosa può impedirvi di realizzarlo? Niente, nessuno. Solo voi stessi. Così, dopo essere stato cacciato per ben due volte fuori dall'ufficio di quel professore, tutor universitario del progetto, iniziò per me un periodo che Leopardi, altro genio italiano, definirebbe di studi e di lavoro matto, disperatissimo. Dodici mesi di lezioni universitarie saltate, centinaia di ore di lavoro non retribuite, solo ed esclusivamente per ottenere in cambio ciò che serviva a trasformare quel sogno in realtà, quella moto ancora cerba in qualcosa di più. Dodici mesi per ripresentarmi in quello stesso ufficio. Stavolta non ero più solo. Insieme a me c'erano altri folli che avevano deciso di unirsi a questa avventura e provare a realizzare i loro sogni. Stavolta avevamo in mano un invito per partecipare ad una gara contro i veri professionisti del settore. Anche quei folli della Federazione Motociclistica Italiana ci avevano strizzato l'occhio. Provate ad immaginare, un gruppo di giovani studenti, tanta passione, tanta voglia di fare, ma anche tanta incoscienza. Non avevamo idea di cosa volesse dire competere tra i sali e scendi del Mugello. Eravamo un po' come una ballerina che esordisce per la prima volta alla Scala di Milano. Noi eravamo abituati ai banchi universitari, era quella la nostra comfort zone, ma non avevamo idea di cosa fosse l'università del motociclismo. Una volta Roosevelt disse è duro fallire, ma ancor più non aver mai provato ad aver successo. In questo mondo non si ottiene nulla senza sforzi. Questa non è una favola. Il fallimento arrivò, fu grande, grandissimo. Provo a spiegarvelo. 20 secondi di distacco al giro dal primo, doppiati per ben due volte in gara. Un'umiliazione. Furono le uniche due volte in cui siamo stati ripresi dalla TV. Sì. Passarono solo 24 ore. Una chiamata arrivò. Quello stesso professore mi voleva nel suo ufficio. Ero pronto al peggio. Mi recai lì a testa bassa. Ero la causa principale di questo fallimento. Io non ci sto a perdere così. Noi possiamo e dobbiamo batterli. Lavoreremo duro e ci riusciremo. Furono queste le sue parole. È in quel momento che mi resi conto che eravamo liberi. Che potevamo dar pieno sfogo al nostro genio. È in quel momento che quella moto, ancora cerba, iniziò a sfidare seriamente i professionisti del settore. Ancora scettici che un telaio incollato potesse funzionare. Quell'idea, foglie e più, oggi si traduce in 63 podi, 27 vittorie, 3 titoli piloti e 3 titoli costruttori. Nel 2023, nella categoria Moto3, abbiamo conquistato il successo per ben 11 volte su 12 gare disputate. Quei professionisti non hanno ancora compreso le reali potenzialità di quella moto. Di questa tecnologia. Che ci permette di ottenere una maggior leggerezza a pari rigidezza. Un miglior smorzamento delle vibrazioni. Con un conseguente miglior feeling per il pilota. proprio grazie all'impiego delle schiume e della colla di alluminio. Inoltre, una maggior libertà in fase di design e di progettazione. Al fine di raggiungere tutti quei target statici e dinamici che ci siamo prefissati. E' così che quella formula magica per la genialità è completa. Libertà, follia e resilienza. Se qualcuno pensa però che noi ci fermeremo qui, si sbaglia. I nostri sogni sono ancora tanti e le idee folli ancora di più. Oggi siamo liberi e non ci fermiamo qui. Vorrei lasciarvi con un piccolo regalo. Abbiamo cercato di racchiudere la nostra filosofia, il nostro modo di vivere il mondo delle corse in due semplici parole. Race different. Questo per noi non è solo un motto, è qualcosa di più. Lo trovate sulle nostre livree, ma non solo. Rappresenta appieno quel modo di vivere le corse fatto di passione. Continua voglia di migliorarsi e di innovare. Vi chiedo di farlo vostro. Vi chiedo anche voi di vivere la vostra corsa in modo differente. Stasera, quando andrete via di qui, salite anche voi in sella alla vostra moto. Cavalcate il vostro genio. Correte veloci verso nuovi traguardi. Impennate verso la realizzazione dei vostri sogni. Grazie. 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 Grazie.